Dicono che sono solo dieci le scelte che ti cambiano veramente la vita. No. E cinque di queste le fai senza neanche accorgertene. E io una storia? Sì. Hashtag sexy me. Adoro. Ha detto che sei carina. A te sembra infelice. Sì, perché? Fermi tutti. Razionalizziamo. Oddio. A questa età non lo decidi. Succede. Non lo programmi. Non sai quando. Arriva e basta. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno per diventare buoni filosofi è la capacità di stupirci. Dai, salvi scemo. È inutile avere paura che le cose sfuggano di mano. Che non siamo in grado di essere felici. Perché invece succede proprio così. Ancora. Ancora. Grazie a tutti.